Come ogni anno ho l'onore di avere la presenza degli amici di AgriPalù che sono presenti e vogliono effettivamente venire a vedere i grani nel polegine che io ho la sensazione che anche quest'anno abbiamo centrato il bersaglio. I portati a Verona stanno dando delle bellissime prospettive di produzione, quello ora si può garantire. Sulle varietà non abbiamo tutte quelle che ci sono qua, però l'amicizia e il lavoro con Arnaldo sta portando dei buoni frutti nel tempo. Avremo modo di provare anche svariate, perché la produttoria di sementi polesane non è mai ferma, sia da un punto di vista della sostenibilità che dall'innovazione. Noi siamo sempre alla ricerca del prodotto migliore, è una delle nostre caratteristiche, noi dobbiamo assolutamente fare questo, avere i prodotti efficienti. E quindi va bene, a me fa molto piacere, so che voi avete anche dell'Astrolabe. Tantissimo l'Astrolabe, abbiamo fatto soprattutto lavoro con l'Astrolabe e devo dire che lo vedo bene in campo, si sta comportando molto bene, vedremo le produzioni da qua a un mese. E adesso se provano anche il Liam sicuramente non sbaglieranno. Il Pilier, non c'è neanche bisogno di presentazione, perché qui siamo in un campo favoloso, non so, correggetemi se sbaglio. Ho provato l'anno scorso.